musica 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 ok, benvenuti ragazzi io sono rikisius e io sono alex e oggi si riprende, a proposito fatemi accendere la luce di diumato ah infatti perchè sta andando via il sole quindi non vedo male e oggi riprendiamo con minijamp non riuscirò mai a ricordarmi di questa cosa e con una piuma rompiamo la zucca che è cresciuta e collezioniamo e di 19 blocchi quindi posso arrivare solo fino a li o la li o la a le o la ah digli cosa abbiamo fatto con i polli ah i polli se non li vedete più qua sono giù li abbiamo fatti trasferire in un li abbiamo fatti passare a miglior vita nel senso che sono passati in un semi internato ok direi che possiamo andare a esplorare meglio ah no anzi aspetta voglio prenderci sempre da qualche luco per la lava si perchè c'è la lava maiale ma perchè? noi abbiamo maiali sul nostro percorso puoi spawnare anche dalla cobblestone adesso non mi pare che ti abbiano concesso tale putire allora andiamo di la dove c'era lo spooner di non so cosa ok adesso praticamente possiamo spawnare sono Andermite No 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 vero 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 Navevo detto che erano quelli Ho detto le cose piccoline Smeraldi Davvero non me l'aspettavo Quindi piazza li rinompiamo Si però il mio c'è Ma non andiamo a portare a casa gli Smeraldi no? S'allà S'allà sicuro? Si Se no credo neanche a chiudi Beh anche a lei Devo morire ma... Ora rimo io E quel maiale sarà la nostra mascotte La mascotte maialosa Di qua? Scheletri C'è ancora il war border però Si è allontanato ma non si è allontanato del tutto Ce n'è senso... Oddio l'angata Lag estremo ancora Oddio cosa è quella roba Che armature Ah no Oddio danno fiamma Non so se tenerli o Sono siloerfisti così qua Tenerli? Sei impazzito a tenerli? Eh no però potrebbero essere Ma non c'è neanche una cesta tra l'altro Eh metti le torce Però non distruggerle Oh la aspetta lei Eh va a finire che muoio Ah era finita? Si era finita Tante torce Questi qua non so se notano Ma sono blocchissimi Tutti Quindi non si può passare di la No questo non è lo che si è What? Uh l'arco incantato Ma c'è sta La carota ecco Ah era quella Era questa la prossima Perfetto Abbiamo fatto un po' di torce Lascio lì Il caso ci servisse No il caso ci servisse Oddio scusi Scusi Sono tutti Oh ma incredibile siete stronzi Ok Direi che Poi i minerali Se ci serviranno E' buono E' buono Ah no la carota me l'ha ciullata Ah è vero Ciullo Eeeh sei Ciullare carota Governo o ladro Il maiale che sarà qua per sempre Anzi ci tiro No vè Ci tiro Vuole venire con me Vuole entrare Vuole entrare Eeeh Che è schicciata Entri prego Non ci faccia Non spinti io Ecco Entri Lei sarà il mio nuovo amico Ciao Bill Tanto sei da solo Ciao Bill Non puoi riprendere da solo Mi dispiace Però puoi fare Ok Direi che possiamo rompere i 5 blocchi Ah per questo Vediamo che lo facciamo a questo Eeeh 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 Find a ghast tier Siamo alla 5 Una lacrima di ghast Quindi Oh Ingendare nel nether No 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 Trovare Il Dov'era il dungeon del vulcano E' quello la Ma non è troppo Non è 8 blocchi Bisogna andare sul tento Eh non vedo più il world border Eh vedi che non vedo più il world border Ah Prova a dormire Allora aspetta Eh vedete Oh guardala Fiamma o no Allora E ossa e feci E sei ossa Mettiamo di la sei ossa Che magari Potrebbe Schifo 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 Eh questa Sì prima facciamo un bloc Quanti sono? Sei? Cinque 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 E bisogna fare un bloc di smanardo mi sembra Una questa Farmi un bloc di smanardo Mmh Tragratare Enderine Gastier Prismarine Emerald block Oddio non ditemi che c'era il piccolo comfort Che cosa sta facendo la cesta dietro di me Che cosa sta facendo quella cesta Qualcuno Qualcuno fermi quella cesta No dovrebbe dartene degli altri smanardo Spero che me ne dia degli altri Che cosa sta facendo la cesta Però dice fine Intanto non è un bloc Quindi Ah non è craft Vero Dobbiamo trovarlo Quindi niente Quindi cosa servivano queste Per bellezza Perché volevano ricompensarci per essere stati bravissimi Bravissimi Bravi Allora dove possiamo andare? Eh non si vede il bordo Non si vede il bordo Però Secondo me possiamo andare a queste qua Oppure sparito No Eh perché prima hai inventato di 19 Poi di 8 Lei è di 19 Poi di 8 Potrebbe anche essere sparito del tutto Io Perché vedi che le vedo le isole Allora Arriviamo sulla cima di quel blocco lì E direi di andare la Secondo me la Gastier la trovi la No Si Nel Vulcano Si 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 Vai Beh il posto casomile di pure al nether Sotto la lava Stai facendo? Non lo so Si Non lo so Non lo so Giuro che non so quello che sto facendo Bene Ah ci hanno già Un po' un punto Un po' un punto su Siamo sulla cinema Ah no vedi che c'è al bordo comunque C'è comunque Non puoi andare questa lì Eh no Oh vediamo dove puoi andare Oddio lei ha spawnato qua No ma lei non ha spawnato dal col di prima Lei è Vero Ok io lì non ci vado Posso far prendere il foco qua? Un crova Un crova L'arco? Si Ok dove si può andare? La? Si No Forse a metà A metà E' già qualcosa Devo iniziare a sapere? No 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 con lo scheletro Ho sentito uno scheletro Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ah no ragni No anche se E' la morte Ma lo spazio di diamante l'hai fatta per cosa? Per non perderlo l'ho fatta E' la morte E' No vabbè apri solo un buchetto di un mazzo Ma ci sono gli anni velenosi Oddio Sai che io vado sopra Adesso ho preso un po' il creeper Oddio c'è il creeper Fammi saltare la tua sopra Ehm 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 Pum Ehm Ehm Da sopra Si Ehm Un po' di gente Ma non mi dire no eh Non li sentivo Madonna Si per quale Sapete? Io aspetterò che le spugno. Aspetto con tutto il cuore che non ci siano altri più. Ma se che è una forcia. Perché ho ricevuto esperienza a caso? Veloce! Non mi fate cadere, non mi fate cadere, non mi fate cadere. Cadi tu, cadi tu, cadi tu, bravo. C'è già un buco? A porca ti dice scava lì. Nooo. Ah no no, non sono sì, non fischio. Pensalo male. No no, scava qua col cavolo. Poi? Poi scava ancora. Poi si può? Si può. Dalla regia mi dicono che si può. Cesta. Oh merda. Ma se io prendo la cesta e me ne infischio altamente. C'è una cosa molto sciolla. No! È chiusa. la cesta. Ecco. No, no, no. Scappa. Oh, Dio, guardalo. Guarda cosa fa. Ma ci sta ancora lì? Si, per dire che voglio sparo, anche se non serve la notazione. No, 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 no. È la morte. No, 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 no. La morte. No, 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 no. Tutto bene, 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 tutto bene. Calmi, calmissimi, calmissimi, scialli, scialdissimi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Proprio così ti consiglio. Mi fatevi dare un attimo, guarda, faccio così. Eh, volevo dare un attimo, facciamo un attimo così qua. Giusto, giusto per vedere. Eeeh, sai, la spune. È una di da. Cioè, ma dove li trovate? Due bravi così che vi fanno tipo un dungeon hardcore. 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 In 8 secondi, virgola 5. E me ne vado. E io non andrei giù. Grazie per il consiglio, lo accetto. E me ne vado. Cos'è la prossima cosa? Crafta Prismarine. Ahia. Prima lì si fa dai guardiani. Quindi, acqua? Sì. Acqua. Quello lì sarà il prossimo dungeon, ragazzi, quindi se vi decido, scelte commento. Mettete mi piace. Iscrivetevi e sostenete questa serie come solo voi possiate fare. Quindi, bene, ragazzi. Oh, oh, disposta. Ecco, vorrei morire. Eh, morire. Quando te lo... Non ci sono suicidati. Ma che cosa? Alla fuori qua.